Salve, benvenuti al video per ordinare dolce e caffè. Per favore, vorrei ordinare un tiramisù. Per favore, vorrei ordinare una macedonia di frutta. Per favore, vorrei ordinare un caffè macchiato. Per favore, vorrei ordinare un espresso. Per favore, vorrei ordinare un caffè corretto. Per favore, vorrei un decaffeinato. Grazie mille e ci vediamo al video successivo.